pacco amico ogni mese nelle case delle famiglie chiunque si dovesse trovare in una situazione di difficoltà può rivolgersi all'associazione fondata claudio cianfrocca pacco amico nasce proprio da questo generi alimentari a lunga conservazione come olio legumi pasta scatolame latte per richiedere il pacco bisogna avere soltanto un ise inferiore a 6.000 euro da tre anni i pacchi vengono portati direttamente nelle case delle famiglie tre anni in cui claudio ha visto le richieste triplicare passando così da 10 a ben 61 famiglie quando la sera ti siedi a tavola e non è niente da mangiare non è bello le famiglie non mangiano una volta al mese ma anche un piccolo supporto è fondamentale le pacco amico come nasce nasce per dare un messaggio di speranza diciamo un po così questo servizio è attivo da due anni oggi come vedi siamo in consegna andremo a consegnare dei beni di genere alimentare ad alcune famiglie che hanno richiesto questo servizio e sappiamo tutti quanti che non si mangia solo una volta al mese però noi siamo speranziosi intanto che quella volta al mese noi vogliamo dare il nostro supporto con la pandemia la richiesta a noi è triplicata perché questo progetto è nato che aveva 10 famiglie eravamo arrivati a 20 e solo nel periodo del covid siamo arrivati a 60 quindi è proprio triplicata ma la cosa ancora più grave perché continuano arrivare richieste che tra un po non ce la faremo nemmeno più a soddisfarle andiamo nelle case delle famiglie che comunque ormai abbiamo stretto un rapporto diciamo ci siamo conosciuti andiamo nelle case diamo questo piccolo aiuto chiamiamolo così e ci dà tanta soddisfazione però come si dice roma si è costruita un po alla volta no speriamo che piano piano la situazione migliori e tutti possano poter provvedere a se stessi da soli insomma